Ciao a tutti e a tutti ben tornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio fare con voi un esperimento che mi avete strarichiesto. Ci ho messo un po' a racimolare tutti i prodottini ma ce l'abbiamo fatta e anzi ringrazio Maki Beauty che mi ha inviato gran parte dei prodotti. In più me ne ho dato un codice sconto per voi quindi se vi interessa visto che rivende un bel po' di marchi tra cui Essence, Catrice, Jeffree Star eccetera eccetera vi lascio tutto qua sotto. Detto ciò allora cosa andiamo a fare oggi? Proviamo a fare una full face solo con prodotti di Essence. Come sapete è un marchio molto conosciuto, non è italiano però comunque viene rivenduto in Italia da anni e anni e anni. Io mi ricordo che le prime cose le prendevo lì perché era e rimane tuttora un brand molto accessibile, molto economico. Quindi ho cercato di prendere la maggior parte dei prodotti per poter appunto fare una full face. Vi dico già che non ho trovato la terra quindi per fare il contour, un rossetto, ho trovato soltanto una matita labbra che tra l'altro avevo io. Per il resto credo di avere tutto. E il succo di questo video è quindi vedere se effettivamente anche se i prodotti sono comunque economici, quasi tutti sotto i 5€, se sono comunque validi e prestanti. Ho provato pochissime cose di quelle che sto appunto per provare insieme a voi quindi il resto sarà tutta una sorpresa e direi di iniziare subitissimo. Non ho trovato purtroppo un primer viso quindi non andrò a mettere un primer viso. Quindi partiamo con gli occhi. C'è il primer occhi che è la Love Stage, praticamente è strafamoso, se vedete i miei video all'inizio usavo solo questo. Non so se adesso effettivamente risulta troppo arancione quindi magari facciamo una prova, lo applico su un occhio. Effettivamente me lo ricordavo un pochino più arancio però va più che bene e me lo ricordo anche buono come primer. Come palettina ho trovato questa qui che tra l'altro guardate che pack super luminoso, riflettente. Infatti la collezione si chiama Dancing on the Milky Way e questa qui è la 01 a Skyfall Stars e contiene questi colori qua che sono in realtà molto neutri se andiamo a coprire il fucsia. Il famoso colore distraente nelle palette però lo voglio utilizzare questo qua. Parto proprio con il fucsia che si chiama Magic of Jupiter. Lo tampono, lo sfumo. Allora come vedete in realtà sembra molto pigmentato, anche molto sfumabile. Vi scrivo i prezzi di ogni singolo prodotto che sto utilizzando. Qua sotto nell'info box così andiamo anche a vedere appunto il lato economico. Però davvero io penso che questa palettina costasse tipo intorno ai 6 euro probabilmente. Non è patchy per niente e vi dico che invece io ho molti problemi nell'utilizzare la palettina di James Charles per Morphe che costa tipo 50 e passa euro. Quindi già per questo un punto alla palettina. Dopodiché vado a prelevare invece il colore più scuro della palette che si chiama Crush on Mars ed è questo viola. Non è matte, ha dei brillantini. Lo prelevo sempre con lo stesso pennellino così mi aiuto a sfumare meglio e lo applico più nella pieda. Questo è leggermente meno pigmentato dell'altro sicuramente, però non sono male. Vi dico, io non provo un ombretto di Essence. Sono passate diversi anni. Mi ricordo che avevo comprato un sacco di ombretti singoli. Li avevo depottati con il metodo che si faceva anni fa, quindi di metterli sulla piastra in modo che la colla si sciogliesse e potevi staccare la cialdina. Quindi avevo quella palette fatta tutta di questi ombretti e usavo quelli. Adesso vado ad applicare Dancing Around Sutter, che è un beige. E mi aiuto a sfumare nella parte qua sotto. In realtà non mi dispiace il look che stiamo creando, alla fine è una cosa molto easy, da tutti i giorni semplice, 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 nessun passaggio complicato, tecnico o chissà quanto preciso. Ora mi prendo un pennellino un pochino più a penna, sempre con Crash on Mars. Vado semplicemente a intensificare qua la zona. La cosa bella è che non c'è neanche fallout. Adesso andiamo a provare i colori metallici. Penso che andrò con Kisses from Neptune, che è quello un po' più chiaro. Lo prelevo con le dita perché almeno gli diamo una resa migliore. Non mi sembrano in realtà troppo burrosi, neanche troppo secchi come formulazione. La scrivenza c'è. Non sono chissà quanto riflettenti. Sinceramente mi aspettavo proprio peggio. Fatto questo, come vedete, la nostra base occhi è iper semplice, perché poi voglio andare a provare questo eyeliner qui. Ne ho sempre sentito parlare benissimo, non l'ho mai provato. Ed è il Super Last Eyeliner Waterproof 18 ore. Allora, io vi dico, l'ho svociato sulla mano appena mi è arrivato. Perché ero curiosa di vedere lo scovolino, che vi faccio vedere, ha una forma un po' particolare. Non è proprio il classico. Sono andata a struccare la mano e effettivamente non si toglieva. Cioè, ragazzi, sono stati tipo tre giorni con il segno del eyeliner sulla mano. Quindi ho un po' di paura a provarlo, ma lo faccio per voi. Quindi adesso andiamo ad utilizzare questo eyeliner. Credo costi tipo intorno ai tre euro. Devo dire che è super scrivente. Lo scovolino è un po' da abituarsi. Io sono abituata, ad esempio, con gli eyeliner in penna. Quindi ho proprio un problema generale con gli eyeliner fatti in questo modo. In realtà è abbastanza comodo. Solo che non ve lo dovete far sfuggire. Vi fa una linea, magari, che voi non vorreste fare. Però, come vedete, sono riuscita a fare una linea molto sottile. Non è troppo tozza. E mi sono trovata bene, devo dire. Quindi nulla da aggiungere per ora. Ed ora passiamo al mascara, che è forse una delle poche cose che, appunto, ho già provato in passato. Vi ho già fatto vedere tantissime volte. E mi trovo benissimo. Che è il Lush Princess, la versione verde. Ce ne sono, mi pare, tre. Di queste qua, con la viola, arancio e, appunto, verde. Ma non vorrei dire... Oh mio Dio. Oh mio Dio, è successo un casino, raga. Mi si è stampato l'eyeliner. Come non ho detto, ho parlato troppo presto. Effettivamente vediamo che si sta asciugando in maniera un pochino lenta. Non è gravissimo, fortunatamente. Aspettiamo che si asciuga e poi andiamo ai ripari. Dicevamo, il mascara. Mi piace molto. Infatti ne ho comprato, tipo, altri tre. E quindi questo lo vado ad applicare subito. Però prima credo proprio che aspetterò un pochino che si asciughi l'eyeliner. Perché sennò ho paura di fare altri danni. Fatemi sapere qua sotto qual è la vostra versione preferita di questo mascara. Perché io ve l'ho straconsigliato, questo qua verde, su Instagram. Ma poi nei messaggi ho ricevuto pareri discordanti. C'è chi mi diceva, sì, questo è buono, però devi provare quello viola. Quindi voglio sapere anche i vostri pareri, così magari provo anche gli altri. Io direi che il mascara è un po' pazzesco. Adesso passiamo al fondotinta, che è la parte che un po' mi preoccupa di più. Perché? Io ho trovato soltanto questo sul sito appunto di Maki Beauty, che è il Fresh and Fit Healthy Glow, che quindi non è super coprente. L'unico problema in questo momento della mia pelle, come potete notare, ho dei brufolini. In più, adesso non so per quale motivo, mi sono arrossata qui e qui. Quindi facciamo anche la prova copertura rossori. Il più chiaro è il numero 10, Fresh Ivory. Spero che vada bene. Io quando ero più piccola, pensate che come fondotinta di Essence, ho sempre utilizzato quello in mousse nel pottino gigante. Ragazzi, era tipo cemento. E in più, con colorazioni assurde. Cioè, sembravo sempre arancione. Come anche questo, in realtà non è del mio colore. Non so se lo state vedendo. La coprenza, come vi ho detto, non è altissima. A parte il colore, non sembra neanche così male. Vogliamo dirla così. Poi ecco, non mi intendo di inci. Quindi io non so dirvi se effettivamente fa proprio schifo a livello di ingredienti. Però devo dire, il rossore l'ha coperto. Vedete questo com'è più rosso. E una volta applicato, vi posso dire che... Ah, già mi sta andando nelle pieghette. Quindi adesso, vabbè, lo dobbiamo fissare tutto. Ma vedremo meglio dopo. Guardate qua sulla fronte. Noi andiamo avanti. E come correttore, provo questo qua, che in realtà è molto conosciuto. Ne ho sentito parlare diverse volte. E questo qua è addirittura waterproof. Si chiama Camouflage Plus, sempre della linea Healthy Glow. E sempre nel colore 10, Light Ivory. Questo qua mi sembra già di un colore un pochino più normale. Lo vado ad applicare. Mi sembra anche abbastanza corposetto. Quindi lo metto nei miei classici punti. Comodore è molto più buono dell'altro. Sa di trucchi da profumeria, non so se avete presente. E lo andiamo a sfumare. Mi sembra abbastanza illuminante, effettivamente. Vi dirò ragazzi, non è assolutamente male. Cioè, è illuminante, è illuminante. Forse va a ingrigire leggermente l'occhiaia. Ma dipende sempre dal tipo di occhiaia che avete. Tipo io ce l'ho tendente verso il marroncino viola. Però non sembra male ragazzi. Ci piace io. Cipria. Questa qui, anche questa strachiacchierata. Piace a tanti miei colleghi. Io l'avevo comprata appunto per provarla al tempo. Ma effettivamente non mi sono mai trovata più di tanto bene. Preferisco altre tipologie di ciprie compatte. Però io do un'altra chance. Ed è appunto la Brighten Up. La vado ad applicare con un pennellino piccolo sotto l'occhio. Come vedete comunque non va ad ingrigire la zona. Ma come dice, dovrebbe appunto illuminarla. Non è una cipria troppo pesante. La cosa bella è che non colora. Ci sono quelle ciprie di questo colore qui. Che poi vanno ad influenzare il tono magari del fondotinta, del correttore, bla bla bla. Questo lo lascia abbastanza neutro. Ora vado a finire il trucco degli occhi. Quindi riprendo l'ombretto fucsia. Lo applico qua sotto. E riprendo il viola. E mi intensifico. Semplice, semplice. Mascara anche sotto. Io non vado ad utilizzare una matita. E ora, altro punto semidolente prima di passare al resto del viso. Finiamo gli occhi con le sopracciglia. Ho trovato questo pottino. Sono riuscita a trovare lo 02 Blonde. Che spero vada bene. Quindi lo vado a prelevare. Mi sembra molto meno cremoso di quello di Anastasia che uso io. Mi sembra molto più compatto. E anche meno scrivente. E soprattutto, noto questa cosa che adesso vi faccio vedere. Dal pottino il colore sembra molto più freddo che poi sbocciato. Non so se notate anche voi questa cosa. Comunque, lo andiamo ad applicare. Non mi sembra, ripeto, troppo scrivente. Sto facendo anche proprio fatica a prelevarlo. Vedete che sembra quasi che non rimangono segni. Sicuramente questo è il prodotto che finora mi sta dando più problemi. Più che altro lo vado ad applicare. Ci ripasso sopra e si toglie. Ragazzi, questo è il massimo che sono riuscita a fare. Il problema non è tanto nella zona dove avete i peli. Perché lì va anche bene. Magari è proprio dove non avete peli. Che non potete andare a disegnare. Perché gli manca proprio pigmento. È quasi troppo gelatinoso. Infatti, dove, vedete, non ho peli. Tipo qua sopra. È molto irregolare come tratto. Passo al viso. Non avendo la terra, ne utilizzo una mia. Come blush, invece, ho ritrovato questo qui. Il Silky Touch Blush. Nel colore Baby Doll. Che io utilizzavo tanto, 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 tanto tempo fa. Mi ricordo che mi piaceva. Sempre un colore abbastanza pesca. E questo qua mi piace, nulla da dire. Anche perché l'ho ricomprato ben due volte. E per un blush per me è tanto. Come illuminante, ho faticato moltissimo a trovarne uno. E ho trovato solo questo. Che è della linea Glaze Donut. Guardate che carino questo pack. Come vedete, il colore sembra molto freddo. L'ho swatchato. Devo essere sincera, appena mi è arrivato. Ma non l'ho mai applicato sulla pelle e sul fondotinta. Andiamo a vedere. Ma ragazzi, vi dirò. Ne ho provati dei molto più costosi. Che non scrivevano. Questo almeno dà una pervenza di soft glam. Non so se si intravede dalla videocamera. Adesso proviamo a prelevarlo con il dito e tamponarlo un pochino. Non è male. E quindi, visto che mi piace, me lo vado un pochino ad applicare anche nell'inner corner qua. E un pochino sotto il soprasciglio. Quindi adesso non ci rimane che provare il nostro prodottino labbra. Ho trovato questa matita che tra l'altro si abbina anche bene al trucco. Ed è appunto la lip liner nel colore cute pink. La andrò ad applicare logicamente tipo rossetto. Perché appunto un rossetto non l'ho trovato. Mi sono sempre strapiaciute le matite di Essence. Ne avevo, raga, ma vi dico tante. Perché mi pare questa essere 1,90€. Che sono strascriventi, stra burrose, resistenti. Cioè, guardate la pigmentazione. Lasciando perdere che ho le labbra secchissime. Ragazzi, quindi questo è il look finito. Appunto con il nostro lato Essence. Copriamo anche così vi faccio vedere. Considerazioni finali. Allora, devo dire che proprio il prodotto che boccerei assolutamente è il gel per sopracciglia. Proprio non mi piace. In più non si è fissato. E sul pelo sento una patina tipo oleosa. Il fondotinta di buono c'è che non si ossida. Effettivamente. Il colore è un pelino scuro per me. Non voglio immaginare per le persone più chiare. Quindi direi magari ampliate un pochino la gamma di colori. Soprattutto spero ci siano altri colori oltre questo. E che questo effettivamente sia il più chiaro venduto in Italia. Perché comunque questo è un marchio di francoforte. Quindi lì sono tutte bianche, cadaveriche. Il correttore invece è una cosa che mi ha piacevolmente colpita. È bello illuminante. Forse è poco coprente nella zona proprio dell'occhiaio. Non so se vedete proprio qui nella parte più scura. E io come vedete ho molto occhiaia scura. Però tutto sommato lo utilizzerei altre volte. Anche la cipria effettivamente gli ho dato una seconda chance. E ho fatto bene perché comunque è bella. Anche l'illuminante pensavo molto peggio. L'eyeliner a parte il piccolo disagio dello stamp. Che ci mette un po' ad asciugarsi. Ma mi piace ecco. È bello scuro. Devo dire che ci siamo. Pensavo questo video uscisse molto più un flop. In realtà è uscito fuori un bel look. Comunque vedete. Carino. Da persona sistemata. Fatemi sapere qua sotto. Se vorreste vedere altri video di questo tipo. Con altri brand. Quali brand dovrei provare. Fatemi sapere. E fatemi sapere soprattutto se vi piace il look che ne è uscito fuori. Se avete mai provato alcuni dei produttini che ho qui sul tavolo. Se il video vi è piaciuto. Thumbs up. Iscrivetevi se ancora non lo siete. E io vi aspetto ai prossimi video. Mua. Ciao. 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 Ciao.